Non so se te ne sei accorto ma il mercato ha profondamente rimbalzato infatti dal minimo del 16 giugno 2022 in cui il mercato dall'inizio dell'anno aveva toccato un meno 23 per cento mi riferisco come al solito al S&P 500 principale mercato azionario mondiale e adesso siamo in territorio negativo solo del 13 34 per cento. Quindi come dobbiamo interpretare questo rimbalzo è finalmente finita una sequenza di rendimenti negativi che hanno messo in crisi molti investitori nel primo semestre dell'anno o questo è semplicemente quello che in gergo tecnico viene definito il rimbalzo del gatto morto? Bella domanda la approfondiamo in questo video. Non hai il coraggio di aprire un banking perché hai paura di quello che vedrai? Bene questo si chiama stress finanziario quando non hai il controllo delle tue finanze nel quotidiano e quindi figuriamoci se sei in grado di pianificare le tue finanze per il futuro. Ma oggi è il tuo giorno fortunato perché abbiamo creato un percorso totalmente gratuito che ti spiegherà come raggiungere il benessere finanziario come poter guardare il tuo banking dicendo è perfetto è in linea con le mie aspettative iscriviti ora è totalmente gratuito trovi il link qui sotto. In diversi video su questo canale specialmente video pubblicati tra aprile maggio e giugno abbiamo condiviso i dati del momento relativamente al mercato azionario e obbligazionario che erano particolarmente duri da accettare perché abbiamo assistito al peggiore inizio dell'anno per l'azionario al peggiore inizio dell'anno per l'obbligazionario ma qualcosa a partire da metà giugno è cambiato e l'abbiamo visto nei dati precedenti infatti il mercato azionario ha rimbalzato ma si è portato dietro altri mercati che andremo a vedere e questo mette in crisi gli investitori. quasi di più che non un mercato sempre e solo calante perché adesso iniziano ad arrivare gli schiaffoni significa che molto spesso il mercato non ha una direzionalità inizia a farti credere qualcosa quindi che il mercato continuerà solo a crollare però poi rimbalza e quindi sul treno dei rialzisti salgono un sacco di investitori ma dopo il treno riprende la direzione dei ribassisti e quindi quelli che erano saliti nella fase rialzista rimangono col cerino in mano depressione vendite in preda all'ansia e gravi problemi per gli investitori. ma in questo video cerchiamo di fare chiarezza e soprattutto di contestualizzare questo rimbalzo che stiamo vedendo ma prima però approfondiamo quanto è importante questo rimbalzo perché oggettivamente è incredibile. commentavo appunto che abbiamo condiviso diversi grafici statistiche nella prima metà dell'anno in cui commentavamo quanto fosse un pessimo inizio dell'anno per molte classi di investimento il peggiore inizio dell'anno e adesso commentiamo il miglior rendimento mese su mese per la classe di investimento junk bond o anche detto high yield bond o anche detto obbligazionario ad alto rendimento. dopo un pessimo rendimento quello che abbiamo visto all'inizio dell'anno il migliore rendimento un autentico rimbalzo lo stesso vale per l'S&P 500 che chiude un luglio sto registrando il primo di agosto veramente incredibile uno dei migliori rendimenti mensili a partire dal 2020 e lo vediamo da questo candelone ma che è seguito da una serie di candelone negative. sono stati appunto i rendimenti negativi dei mesi precedenti soprattutto del primo e secondo trimester dell'anno il rimbalzo è generalizzato perché vale anche per il mercato dei titoli di Stato americani quindi tutto l'obbligazionario a luglio vediamo il miglior recupero da marzo 2020 dopo mesi di sofferenza di agonia potremmo chiamarla come marzo e aprile. e questi sono autentici schiapponi per investitori che due mesi fa su questo canale commentavano ah io non me la sento esco dal mercato completamente perché non riesco a reggere questi rendimenti. a suo tempo vi dicevamo attenzione perché la domanda è se esci dal mercato ti devi chiedere quando rientri nel mercato e ti sei perso questo rimbalzo. di solito queste sono lezioni che i mercati ti danno in periodi più lunghi qui da un mese successivo vediamo il peggior mese dell'anno seguito dal miglior mese dell'anno. quindi come al solito vale il messaggio che mandiamo in molti video attenzione se sei in preda all'ansia in questo momento non distruggere un progetto di investimento che magari stai portando avanti da 20 anni ma trova le condizioni per gestire l'ansia come affidandoti a qualcuno che ti può dare una mano acquisendo conoscenze e competenze migliori magari facendo una migliore pianificazione finanziaria. ma come vedi il mercato in questo momento e non ci sono ragioni per aspettarsi che smetterà tra un mese tirerà grandi schiaffoni illude e delude persone costantemente e continuamente. ok chiarito questo chiediamoci perché i mercati stanno rimbalzando. i mercati stanno rimbalzando perché sono tornati ottimisti sulla base di aspettative dei tassi di interesse. perché la fed jaron powell ha dichiarato che l'attuale tasso 2,5 per cento per i tassi di interesse statunitensi sono il tasso neutrale. per tasso neutrale si intende il tasso reale al netto dell'inflazione che supporta l'economia alla piena occupazione e al massimo output di produzione economica tenendo sotto controllo l'inflazione tenendola costante. attenzione perché questo è un importante aspetto il tasso neutrale non può essere osservato direttamente allo stesso tempo i policy makers quindi jaron powell christine lagarde e tutti i ricercatori economici cercano di stimare il tasso neutrale e di utilizzarlo come riferimento per le loro politiche monetarie utilizzando vari modelli economici. quindi in poche parole il tasso neutrale è quel tasso che permette di tenere sotto controllo l'inflazione e allo stesso tempo avere piena occupazione e massimizzare il prodotto interno lordo. e questo è un tasso teorico è un po' come un unicorno tutti vorrebbero che esistesse tutti sanno che esistono gli unicorni vallo a chiedere ai miei figli però nessuno l'ha mai visto ed è dannatamente difficile da scovare. sì perché questa è la speranza di jaron powell che il due mezzo per cento attuale tasso di interesse della fed sia il tasso neutrale ma non vi è alcuna garanzia che questo sia vero dal momento che come abbiamo visto prima dalla definizione wikipedia è qualcosa che puoi solo scoprire a posteriori. non lo puoi sapere preventivamente puoi stimarlo ma non puoi avere la certezza che sia davvero a due mezzo per cento dal momento che entriamo nel mondo delle stime delle visioni sul futuro ci sono economisti come jaron powell che ritengono che il due mezzo per cento sia davvero il tasso neutrale e altri governatori delle fed locali perché saprai che di fed ce ne sono varie negli stati uniti perché gli stati uniti sono uno stato federale e ogni stato federale ha un suo governatore locale bene non tutti i governatori locali della fed sono d'accordo con questa idea infatti il numero uno della fed nil kashkari dice sono sorpreso dalle interpretazioni che i mercati stanno avendo di questo attuale contesto economico siamo determinati nel riportare l'inflazione al 2 per cento e continueremo a fare quello che abbiamo fatto finché non siamo certi che l'inflazione sia appunto sulla rotta del 2 per cento continuare a fare quello che abbiamo fatto finora vuol dire continuare ad aumentare i tassi di interesse quindi smettendo in altre parole la tesi di powell che è l'attuale tasso di interesse del due mezzo per cento è quello neutrale non c'è bisogno di alterarlo ulteriormente quindi come puoi intuire ci sono opinioni discordanti opinioni anche dette più colomba powell è l'esponente colomba in questo momento della politica monetaria e opinioni più da falco si dice ci sono altri governatori che ritengono appunto che si debba fare di più sui tassi di interesse che con questi tassi di interesse al due mezzo per cento non si riuscirà a ridurre l'inflazione vicino al 2 3 per cento che è l'obiettivo della fed quindi in altre parole dicono c'è da fare molto di più colomba falchi questo accade ogni volta che c'è da prendere decisioni legate al politico monetario o decisioni economiche finanziarie eccetera questa terminologia si applica non solo quando si deve decidere appunto quali tassi di interesse adottare ma anche su quanto debito pubblico fare i famosi falchi tedeschi ne avrai sentito parlare bene sono questi sono persone più attente ai tassi di interesse che vogliono una maggiore azione da parte della banca centrale nel cash cari continua dicendo non so che cosa stia guardando il mercato obbligazionario per arrivare a questa conclusione semplicemente si sta fidando delle parole della fed e del fatto che secondo jaron powell non ci saranno ulteriori aumenti di tassi di interesse la vera domanda a cui non sa rispondere neanche cash cari perché è difficile fare previsioni così avanti nel tempo è quanto dovranno aumentare i tassi di interesse per tenere sotto controllo l'inflazione e lui risponde candidamente nobody knows non lo so non nessuno lo sa perché appunto il tasso neutrale è un unicorno è una chimera lo puoi scoprire solo a posteriori quindi quello a cui stiamo assistendo è una stima è una speranza da parte dei mercati che powell abbia ragione dopo tutto c'è il detto don't fight the fed non andare contro le banche centrali è anche vero che nell'ultimo periodo le banche centrali non è che ci abbiano preso molto in termini di politica monetaria l'abbiamo commentato in questo video se te lo sei perso il link in descrizione e per non perderti un ulteriore aggiornamento clicca mi piace iscriviti al canale in quel video commentavamo appunto quanto le banche centrali abbiano agito tardi probabilmente 6 9 mesi in ritardo rispetto a segnali che non andavano trascurati da parte dell'inflazione e adesso stanno rincorrendo l'inflazione perché abbiamo tassi reali negativi del di oltre 7 per cento in Europa quindi non solo le banche centrali possono sbagliare ma in questo grafico vediamo come anche i mercati sbagliano nel valutare l'andamento dell'inflazione queste sono le stime dell'inflazione da parte dei mercati e ogni riga è una stima in una data differente ok come vedi tutti i vari colori sono date differenti a partire da settembre del 2018 per arrivare a maggio 2022 tutte le stime che sono state fatte in momenti diversi dai mercati vedevano un ritorno dell'inflazione al 2 per cento mentre nella riga nera vediamo che cosa ha fatto l'inflazione che negli Stati Uniti è toccato il picco del 9 per cento ma nessuno a livello di consensus dei mercati di maggioranza di investitori all'interno dei mercati ha visto un costante aumento dell'inflazione tutti ritenevano questa è transitoria e prima o poi ritornerà ai valori del 2 per cento questa è la ragione per cui abbiamo visto un primo semestre di perdita violenta sui mercati sia azionari che obbligazionari perché dopo essersi illusi che la Fed riusciva a tenere sotto controllo l'inflazione ci si è resi conto che queste stime che venivano fatte dai mercati stessi erano assolutamente irrealistiche in altre parole l'inflazione sarebbe continuata a salire e di conseguenza c'è stato un forte riprezzamento di tutto il comparto obbligazionario ma anche azionario questo fenomeno quindi questi errori di valutazione da parte dei mercati potenzialmente da parte delle banche centrali che sono errori che hanno già commesso in passato che vedono all'interno delle banche centrali divergenze di opinione può spingere molti investitori a pensare che la buriana sia finita che adesso siamo tornati a condizioni tranquille non è assolutamente detto quello a cui stiamo assistendo potenzialmente è un rimbalzo del gatto morto che andiamo ad analizzare adesso non prima di aver fatto le opportune premesse qui su YouTube tu stai guardando un contenuto di informazione ma intrattenimento queste informazioni possono essere vecchie tra due settimane e non sono necessariamente coerente con quello che tra un mese faremo sui portafogli di piano finanziario quindi questo è intrattenimento se vuoi capire quello che facciamo e come lo facciamo con i nostri portafogli ti iscrivi a piano finanziario quindi per tutti quelli che tra due mesi qualunque cosa faccia il mercato diranno a due mesi fa avevi detto una cosa o l'altra lo ripeto questo è intrattenimento e l'obiettivo di questi video voglio darti degli spunti degli stimoli di ragionamento ma non basare la tua strategia di investimento non solo su questo video ma anche su altri video o fai un'analisi approfondita come quelle che facciamo noi su piano finanziario con il nostro team di analisti oppure non agisci oppure ti affidi a qualcuno che le faccia per te che è quello che fanno i nostri iscritti a piano finanziario perché come al solito si possono avere aspettative sul futuro e si può impostare il portafoglio coerentemente con queste aspettative ma nessuno ha la sfera di cristallo neanche io pensa ho la sfera di cristallo di conseguenza ci deve essere sempre anche un piano B una strategia che ti tenga in piedi qualora la visione che hai sul futuro sia sbagliata anche se poco probabile può essere sbagliata ma ti prego ti prego non guardare un video su youtube di questo canale o di altri canali e cambiare la tua impostazione di investimento sulla base di questo video valgono le considerazioni di prima se ti rendi conto che non sei tranquillo fatti aiutare affidati a qualcuno che ti guidi perché perché quello che potrebbe succedere è una continuazione di questi schiaffoni da parte del mercato che ha rimbalzato di quasi 10 punti percentuali dai minimi parlo dell'azionario americano e non è in alcun modo detto che continui questo trend di crescita questo andamento rialzista in altre parole questo potrebbe essere il famoso rimbalzo del gatto morto è un'immagine un po cruda ma il dead cat bounce è un concetto molto consolidato nei mercati finanziari immaginati di buttare un povero gatto dal decimo piano ovviamente questo vola giù e fa un rimbalzino quando atterra al suolo è un'immagine cruda mi dispiace io amo gli animali ma viene definito così il dead cat bounce lo vediamo nel 2007 2009 nel crollo del 2007 nel 2009 da un minimo pallino rosso il mercato ha rimbalzato di un più 11 per cento oggi stiamo vedendo un più 10 per cento ma questo è stato semplicemente un momento rialzista in un momento ribassista più lungo e poi anche qui un più 18 per cento questo è stato uno schiaffone molto violento perché 18 20 per cento di rimbalzo non sono trascurabili in altre parole questi rimbalzi illudono molte persone che il trend ribassista sia terminato e che invece sia partito un trend rialzista ma questo non è detto che si realizzi nel crollo della bolla tecnologica 2000 2003 gli schiaffoni sono stati ancora più vigorosi più 29 per cento di rimbalzo sempre all'interno di un trend ribassista a livello psicologico il crollo del 2000 è stato devastante perché è durato tre anni attenzione per tutti quelli che sono già in crisi adesso lo ripeto se sei in crisi se sei in ansia fate aiutare rivolgiti a qualcuno che ti tranquillizzi perché questo è durato tre anni vuol dire andare avanti altri due anni e mezzo di crollo dei mercati da questo momento ci siamo dentro solo da sei mesi i crolli dei mercati in media vedono una riduzione dei prezzi dal 35 al 40 per cento e una durata di circa 20 mesi quindi il crollo medio dei mercati è ben più lungo e ben più profondo di quello che abbiamo assistito finora quindi il messaggio di questo video è attenzione perché questo recupero che stanno avendo i mercati potrebbe essere davvero un imbalzo del gatto morto a livello di condizioni economiche finanziarie non ci sono grandi stravolgimenti rispetto a due mesi fa l'inflazione è comunque fuori controllo non vi è alcuna garanzia che un tasso di interesse del due mezzo per cento tenga un'inflazione al nove per cento sotto controllo diversi governatori delle fed locali hanno dichiarato che sarà necessario agire di più più aumentano i tassi di interesse più è logico aspettarsi una correzione del mercato azionario e obbligazionario e quindi a mio parere non sono finite le condizioni per forte volatilità nei prossimi mesi che può voler dire che ancora per diversi mesi il mercato tirerà schiaffoni da una parte e dall'altra portando allo sfinimento gli investitori a quella che viene detta la capitolazione cioè quando l'investitore non ce la fa più ha un livello di stress così elevato che dice basta io esco dai mercati per sempre di solito questo periodo dura talmente tanto che poi i mercati rimbalzano lui non è a mercato sta fuori dal mercato i sette anni in cui i mercati sono saliti in modo verticale e poi a gennaio 2020 capisce che è il momento giusto per rientrare a mercato e un mese dopo ricomincia il ciclo purtroppo funziona sempre così non potrà mai dirtelo abbastanza ma ci sono tantissime statistiche sulla psicologia degli investitori che confermano come il timing è completamente sbagliato ma perché accade questo perché gli investitori non sono in grado di incassare gli schiaffoni è un po come lo sport della box devi essere in grado di incassare degli schiaffoni o dei pugni senza vacillare non vuol dire che non facciano male ma vuol dire che hai fatto un allenamento che ti rende più forte più in grado di incassare e tenere dentro di te la sofferenza purtroppo gli investimenti sono fatti così se non ci fosse questa difficoltà emotiva psicologica non ci sarebbe un rendimento dai nostri investimenti perché il rendimento è proporzionale a la volatilità anche che siamo in grado di accettare a meno di mercati che hanno solo volatilità e non hanno rendimento però per portafogli diversificati vale questa relazione e quindi per quanto personalmente ritengo che questo possa essere un ribalzo del gatto morto ma ripeto non sono posizionato al 100% per questo scenario e tengo sempre il piano B fai lo stesso anche tu ma soprattutto preparati perché di schiaffoni purtroppo il mercato ne darà molti altri in questo che è un contesto che ha un'incertezza intrinseca che anch'io da studioso dei mercati da appassionato dei mercati non ho visto molto frequentemente fammi sapere le tue riflessioni nei commenti con questo è tutto ci vediamo in un altro video